Una vittoria importante, forse non nettissima per i 90 minuti, però si è stata una squadra cinica, capace di difendere con ordine e di colpire al momento giusto. Si, si gioca per i tre punti. Siamo stati belli in tante circostanze, anche con squadre di alta classifica, abbiamo raccolto poco. Oggi abbiamo fatto una partita per come l'avevamo preparata. Siamo stati bravi a concretizzare una delle poche occasioni che ci è capitata. Diciamo che siamo stati cinici, magari è una partita più da pareggio, però così come tante altre volte meritavano di vincere e abbiamo pareggiato, stavolta è andata bene a noi. L'ennesima gara è stata fatta bene, è una partita giocata secondo me a senso unico. Abbiamo fatto bene, abbiamo giocato bene, abbiamo fatto un buon calcio, abbiamo sbagliato sotto porta due gol prima del loro, abbastanza facili. Però dobbiamo che dire, bisogna per forza reagire per l'ennesima volta e far rabbia perché ad oggi non abbiamo trovato nessuna squadra che ci ha messo sotto. Anzi, noi siamo stati secondo me nettamente più bravi e per sfortuna o per l'ultimo passaggio o per mancanza di precisione non riusciamo a vincere le partite. Sicuramente lavoreremo su questo obiettivo, su tutto questo.